numero 5 lasciati affascinare dall'affidabilità e dalla solidità dell'acera spire 3 un notebook dal design essenziale che offre prestazioni incredibili a un prezzo accessibile con il suo processore intel core i3 e la memoria ram da 8 gigabyte questo pc è in grado di gestire senza sforzo le applicazioni di uso comune più diffuse garantendo una navigazione fluida e una velocità di risposta eccezionale una delle caratteristiche che rende questo notebook davvero speciale è la presenza di uno spazio di archiviazione ssd da 512 gigabyte la tua esperienza di archiviazione diventerà un vero e proprio piacere grazie alla rapidità con cui potrai accedere ai tuoi file e programmi preferiti il prezzo di questo articolo è consultabile attraverso il link in descrizione numero 4 l'intel inspiron 15 serie 5000 è un vero gioiello tra i notebook di fascia media perfetto per l'uso domestico offre caratteristiche di altissimo livello a un prezzo molto accessibile il cuore pulsante di questo computer è il processore intel core i5 di decima generazione affidabile e potente la ram da 8 gigabyte garantisce un'esperienza senza rallentamenti e un multitasking fluido inoltre l'SSD da 256 gigabyte garantisce tempi di avvio rapidi e un'ampia capacità di archiviazione ma il punto di forza di questo notebook è sicuramente il suo splendido display se ti interessa questo prodotto o vuoi sapere il suo prezzo clicca il link in descrizione numero 3 lasciate che vi presenti il notebook asus tooth gaming dash f15 un autentico capolavoro perché appassionato di gaming competitivo questa macchina è stata pensata appositamente per offrire prestazioni straordinarie grazie a una combinazione di hardware di fascia alta che farà la gioia di ogni videogiocatore all'interno di questa potente macchina c'è un processore intel core i7 di undicesima generazione che vi regalerà una potenza di calcolo senza paragoni inoltre potrete godere di 16 gigabyte di memoria ram che vi permetteranno di eseguire i vostri giochi e le vostre applicazioni preferite senza alcun problema di rallentamenti o blocchi acquista questo prodotto con il link che trovi in descrizione numero 2 il microsoft surface book 3 è un prodotto eccezionale che combina tutte le caratteristiche che ci si può aspettare da un notebook di fascia alta con la versatilità di un tablet questo due in uno offre prestazioni potenti grazie al processore intel core i7 1065 g7 di decima generazione e una memoria ram di 16 gigabyte che garantiscono la massima produttività sia per le attività legate alla grafica che a quelle di editing una delle particolarità di questo dispositivo è sicuramente lo schermo touchscreen puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione numero 1 il macbook pro 16 pollici di apple è l'ideale per chi cerca una potenza senza limiti e un'efficienza ineguagliabile con il suo processore intel core i7 di nona generazione che può raggiungere una velocità di clock fino a 4,5 gigahertz e i 16 gigabyte di ram questo notebook offre prestazioni di livello superiore la scheda grafica amd radeon pro 5300 m è stata pensata appositamente per i creatori e i professionisti il che la rende perfetta per lavori che richiedono una grafica di alta qualità soprattutto nel campo del 3d in descrizione trovi il link di questo prodotto